Se siete appassionati del Grande Fratello e degli amici a quattro zampe, non potete certamente resistere al nuovo programma ideato dagli islandesi. Si chiama Katarsans ed è un reality show interamente dedicato ai gatti. In una casetta simile a quella del Grande Fratello, ma completamente a misura di gatto, è infatti possibile assistere alle peripezie di un gruppo di felini. Per un periodo di tre e quattro settimane possiamo vederli giocare, cacciare, saltellare e azzuffarsi davanti alle telecamere per 24 ore al giorno. Un'idea originale diffusa gratuitamente su YouTube e con un fine abbastanza nobile. Il progetto, infatti, mira a trovare una casa ai simpatici micetti abbandonati, protagonisti della trasmissione. Una volta adottati, i gatti verranno poi sostituiti con nuovi partecipanti, che a loro volta cercheranno una nuova famiglia adottiva. Sono ben quattro le angolazioni diverse dalle quali è possibile spiare la vita dei mici di Katarsans, utilizzando telecamere GoPro con appositi sensori di ripresa che permettono la registrazione anche in mancanza di luce. Gli animali non vengono però lasciati totalmente in balia di loro stessi, come si potrebbe credere. C'è un gruppo di volontari e dipendenti della società islandese per la protezione dei gatti che si occupa del benessere dei gattini. Un gruppo di persone è sempre pronto a pulire l'ambiente e a dar da mangiare ai teneri felini, almeno due o tre volte al giorno. L'associazione che ha lanciato questa iniziativa gode infatti di tutte le autorizzazioni e della partnership delle autorità islandesi per la protezione e il benessere degli animali, al fine di poter garantire le migliori condizioni agli inconsapevoli coinquilini del reality. Il progetto è realizzato da Scott Productions, Saga Film e dal sito nutimin.is. L'iniziativa Cattarsians sta rispotendo già grande successo in patria, con decine di migliaia di condivisioni e visualizzazioni. Chissà che presto non venga esportata anche nel resto del mondo.